Chi poteva pensare che nella nostra epoca ci fossero ancora delle guerre? Avevamo memoria dell'ultima guerra mondiale, tragica, con milioni di morti, eppure nel 1991 tutto il mondo si alleò per riportare via le truppe di Saddam Hussein dal Kuwait che era stato invaso dal dittatore iracheno. Mi ricordo in redazione, ero al Corriere della Sera, si vissero delle giornate molto tese, molto drammatiche, perché da un momento all'altro George Bush, padre, avrebbe dato il via libera all'attacco contro le truppe di Saddam Hussein. Si sa sempre come comincia, non sai mai come finisce, nel senso non riesce a percepire la durata di un conflitto di queste dimensioni, il primo importante del dopoguerra, e quindi eravamo nelle redazioni in attesa del via libera alle operazioni. Tra l'altro noi partecipammo con dei piloti, un nostro aereo fu abbattuto e due italiani furono fatti prigionieri. Insomma, vivemo dei giorni molto intensi e molto inquieti, perché una guerra all'inizio degli anni 90 nessuno di noi se l'aspettava, e tra l'altro questa fu la prima di una serie di guerre che poi si scaderarono nel nostro continente, e fino a oggi ne portiamo le conseguenze. Il padre di George Bush fu al vertice di questa armata con un mandato dell'ONU, quindi tutto avvenne nella più assoluta regolarità, ma insomma le paure che non avevamo vissuto perché eravamo troppo giovani nell'ultima guerra, risalirono tutte, riemersero tutte, e quindi furono giorni che difficilmente possiamo dimenticare sia noi che facevamo i giornalisti, sia quelli che erano impegnati sul fronte, sia come inviati, sia come soldati. Quindi giornate drammatiche, giornate vissute con grande preoccupazione e che portarono il mondo su un crinale sconosciuto, anche perché due anni prima era crollato il muro di Berlino. Ecco, quello lì pensavamo sarebbe stato l'ultimo anello di una catena che era durata fin troppo tempo e che forse apriva l'Europa e il mondo a un periodo di grande pace. Non fu così.